Scusi, lei dove va? Sì, guardi, lavoro nella cooperativa che fa le polizie qui dentro. E quindi? Lavoro qui. Eh, ho capito, che facciamo? Ci intrufoliamo così nelle stanze dei bambini? No, non ha capito. Eh, vabbè, spiegami allora. Sì, io volevo solamente delle informazioni su un bambino che è qui da voi. Che bambino? Eh, un bambino che io vedo quando passo qui sotto e lui si affaccia alla finestra e ci vediamo. Eh, come si chiama questo bambino? Come si chiama? Eh, dico, come si chiama il bambino? Non lo so. Non sa neanche come si chiama? Ma secondo te, no? Ma noi possiamo dare informazioni così sui pazienti al primo che passa? Anche se fai le polizie qua dentro, che lavori qua. Giulia? Che c'è? No, no, niente, tutto a posto. Sì, ho capito che sto qua. No, devi uscire per favore. Fammi la cortesia, dai. Andiamo, dai. Sì, vado da solo. Ciao. Ciao.